Abbiamo preso una posa estiva un po' più lunga del previsto ma contiamo di migliorare in maniera importante i nostri contenuti per quest'anno grazie alla nuova edizione del canale. Partiremo oggi parlando di uno dei fenomeni più significativi del lato oscuro della tecnologia, quello del lavoro che non si vede, che però è fondamentale per far funzionare le nostre piattaforme digitali che utilizziamo quotidianamente. Ne parleremo con Jacopo Franchi. Jacopo è un social media manager di formazione umanistica ed è appassionato di tecnologia. Nel tempo libero mi piace anche scrivere, lo fa sia su un interessante blog, il cui nome è Umanismo Digitale, e sia una discreta produzione saggistica. In particolare nel 2019 lui ha pubblicato il libro Solitudini connesse, Sprofondarli in social media, e invece di quest'anno è il suo ultimo libro di cui parleremo oggi. Gli obsoleti, il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti. Allora Jacopo, grazie di averci dedicato un po' del tuo tempo oggi. Come prima domanda volevo chiederti innanzitutto chi sono questi moderatori di cui parli nel tuo libro e come finiscono col fare questo lavoro? Come ci si arriva insomma? Il moderatori di contenuti oggi è forse uno dei lavori più diffusi e di maggior successo dell'era di internet. Si parla di quasi 100-150 mila persone attive in tutto il mondo che per contratto, per lavoro, trascorrono le loro giornate dietro un computer a rivedere i contenuti che vengono segnalati dagli utenti e dall'intelligenza artificiale e devono decidere nell'arco di pochissimi secondi, al massimo uno o due minuti, se quel determinato contenuto viola le regole di pubblicazione di una piattaforma come Facebook, come Twitter, come LinkedIn o come piattaforme più recenti come TikTok e devono decidere in pochissimo tempo se quel contenuto, violando le regole, ha il diritto o meno a rimanere online oppure a essere censurato ed eliminato. Estremizzando, se vogliamo, possiamo dire che tutti noi siamo moderatori di contenuti, tutte le persone che hanno un'utenza digitale comunque si incaricano di gestire i contenuti che vengono pubblicati, di moderare i commenti che appaiono sotto i propri post, sotto i propri Twitter e tutte le persone in qualche modo, in varia misura, partecipano a questa attività di moderazione di contenuti online, segnalando i contenuti che non dovrebbero essere pubblicati, a volte anche autocensurandosi in un certo senso per non violare le regole di pubblicazione delle piattaforme stesse e partecipando in questo modo a quella che è forse la più capillare opera di sorveglianza e censura globale che sia mai stata messa in piedi dall'uomo. Di tutte le persone che svolgono attività di moderazione di contenuti in maniera per lo più volontaria e gratuita, una piccola parte però, come abbiamo detto prima, una parte consistente, quindi qualche decina di migliaia di persone in tutto il mondo invece viene pagata per farlo, viene pagata per svolgere il ruolo di moderatore di contenuti professionista, anche se la maggior parte di queste persone non dura più di qualche mese al lavoro in virtù della grande, grande, grande violenza di alcuni contenuti a cui questi sono sottoposti quotidianamente. Volevo chiederti però come funziona il reclutamento di queste persone e il loro turnover. Si tratta di un lavoro molto stressante, faticoso e logorante anche sul piano psicologico. Immagino quindi che ci sia un ricambio continuo del personale e che siano rari i casi tra chi fa questo tipo di lavoro per tempi lunghi. Non so cosa ci puoi dire in merito. Si, è un lavoro che si svolge nella maggior parte dei casi in una cosiddetta area grigia. Non è facile diventare moderatore di contenuti, ma non tanto dal punto di vista delle particolari competenze che vengono richieste per svolgere questo lavoro, ma piuttosto dal punto di vista del fatto che la maggior parte delle fatte di lavoro non sono riferite direttamente all'ambito della moderazione di contenuti. Secondo quanto si legge in testimonianze che ormai hanno a volte anche dieci anni di vita, ma ci sono anche molte testimonianze più recenti pubblicate prevalentemente dalla stampa internazionale, americana e inglese, per diventare moderatore di contenuti di solito si risponde a un annuncio che con la moderazione di contenuti non ha nulla a che fare. Spesso si lavora per delle grandi aziende che offrono servizi di moderazione di contenuti in outsourcing, quindi Ascensure piuttosto che Connizant, e spesso gli offerti di lavoro rispondono al nome di assistenza clienti, servizi clienti, community specialist, social media analyst. È molto raro, direi quasi impossibile, trovare un'offerta di lavoro di moderatore di contenuti per Facebook, per YouTube. Spesso queste sono mascherate da tutt'altro, anche perché non è un lavoro che una persona forse cercherebbe attivamente, non è un lavoro ben pagato, è pagato poco più del minimo senariale ed è un lavoro su cui comunque sempre più spesso si iniziano a sentire le storie difficili di chi ci è già passato prima di noi. Come dicevi tu giustamente prima, la maggior parte di questi moderatori non dura più di qualche mese in ragione di quello che devono vedere, in ragione proprio anche dei ritmi folli a cui questo lavoro è soggetto. Parliamo sì di decine di migliaia di moderatori di contenuti di tutto il mondo, ma che devono rivedere migliaia quando non milioni di contenuti che vengono segnalati quotidianamente dagli utenti. In media, secondo le testimonianze che ho potuto raccogliere, un moderatore di contenuti per Facebook o per Twitter o per qualsiasi altra piattaforma, valuta qualcosa come mille, mille e cinquecento contenuti ogni giorno, che fa qualcosa come un contenuto ogni 30 secondi. E quindi capisci che di fronte a questa pressione, di fronte all'imprevedibilità dei contenuti, di fronte al fatto che questi contenuti talvolta contengono anche delle scene di violenza, di terrorismo, di guerra, di barbarie contro gli uomini e contro gli animali, è molto difficile trovare delle persone che riescano a reggere in queste condizioni a svolgere questo lavoro per più di qualche mese consecutivo. I moderatori che hanno dichiarato nelle testimonianze di essere rimasti per anni a lavorare per la stessa azienda che li aveva assunti inizialmente, o nei rarissimi casi che hanno fatto una carriera all'interno delle aziende tecnologiche, quindi passando da una posizione di contractor a una posizione di dipendenti interni delle aziende o piuttosto facendo carriera al loro interno, sono diventati da moderatori di prima linea a supervisori dei moderatori o formatori dei moderatori stessi spesso dopo pochi mesi dall'inizio del loro incaico. Quindi il moderatore vero, quello che deve agire, quello che ha il potere di eliminare il contenuto che se li deve guardare tutti, è un moderatore che spesso non ha più di 4 o 5 mesi di esperienza e nella maggior parte dei casi non ha mai svolto questo lavoro prima d'allora. Quali sono gli effetti psicologici di questo lavoro che in teoria non richiede grandi esperienze e competenze pregresse, anche se probabilmente richiede attenzione e anche velocità nella comprensione e nell'analisi dei testi e del contesto in cui gli scambi avvengono? Ma in realtà questo sarebbe un lavoro che se svolto bene, invece prevederebbe delle grandi competenze perché comunque gli eventi che devono analizzare sono molto diversi tra di loro, sono spesso complessi vanno incontro a quella che ormai da anni si conosce nell'ambito degli studi sui social media come collasso del contesto, quindi estrema difficoltà comunque di valutare qual è la corretta interpretazione di una foto, di un video o di un testo completamente estrapolato del contesto in cui questi sono stati pubblicati e prodotti per la prima volta. Quindi a farlo bene questo lavoro invece richiederebbe delle competenze molto avanzate. Peccato che è un lavoro che è pagato veramente poco e probabilmente gli specialisti, gli esperti di una materia e di una disciplina difficilmente andrebbero a lavorare oggi come moderatori. Per quanto riguarda le conseguenze psicologiche, quello che ci dicono le testimonianze è che nel migliore dei casi il moderatore farà veramente tanta fatica nel corso del tempo a dimenticare quello che ha dovuto vedere durante il lavoro. Molti di loro devono vedere scene di omicidi, scene di aggressioni contro gli uomini e contro gli animali, scene veramente di violenza brutale e in una quantità probabilmente inimmaginabile per la maggior parte di noi che non abbiamo mai fatto questo tipo di lavoro. Nei casi peggiori possono anche sviluppare delle forme di disturbo post-traumatico da stress. Almeno questo è quello che ci dicono le recenti sentenze e soprattutto le recenti cause che i moderatori hanno fatto nei confronti delle aziende tecnologiche. Essi cercano in qualche modo almeno di recuperare una parte di quello che hanno perso nello svolgere questo lavoro cercando di farsi riconoscere in qualche modo un danno psicologico praticamente irreversibile o comunque molto grave che è stato maturato nel corso di pochi mesi di attività lavorativa. Nel corso degli anni le aziende tecnologiche che li hanno assunti direttamente le piattaforme digitali e i loro fornitori esterni hanno promesso più e più volte che avrebbero assicurato i moderatori una forma di supporto psicologico o comunque di consulenza psicologica continuativa e disponibile 24-7 durante tutto l'arco dello svolgimento del loro lavoro. Da quello che ci dicono comunque le testimonianze di queste promesse se ne è fatto veramente poco. al massimo i moderatori possono consultarsi con uno psicologo ma più spesso un wellness coach per un paio d'ore a settimana quando non al mese ma di fronte alle difficoltà di far fronte a questo lavoro di fronte alla violenza dei contenuti a cui sono esposti probabilmente neppure un supporto psicologico vero e continuativo potrebbe effettivamente essere sufficienti per metterli a riparo o consentirli in qualche modo di arrivare a un compromesso con quello che hanno dovuto vedere arrivare a una sorta di compromesso interiore con quello che oggi devono ricordare. Riguardo ai problemi che hai elencato, anche rispetto al continuo ricambio di personale quali possono essere i modi per sindacalizzare questi lavori e per cercare di difenderne i diritti? Stanno iniziando, stanno iniziando soprattutto nell'Europa, nel vecchio continente ci sono alcuni moderatori che hanno iniziato ad essere seguiti da studi legali lo scorso novembre 2020 per la prima volta 200 moderatori hanno preso carta e penna hanno scritto e pubblicato una lettera pubblica rivolta a Mark Zuckerberg e ai principali vertici di Facebook per chiedere di essere assunti direttamente nell'azienda di poter godere degli stessi privilegi e diritti di tutti gli altri dipendenti dell'azienda e anche che il loro ruolo fosse pubblicamente riconosciuto. Diciamo che la difficoltà di portare avanti iniziative di questo tipo viene, se vogliamo la possiamo leggere in controluce la lettera stessa di 200 moderatori oltre 200 moderatori che hanno scritto questa lettera solo una minima parte si è firmato con il proprio nome e cognome in qualche modo i moderatori forse hanno fatto proprio interiorizzato una cultura dell'anonimato, dell'oscurità e della segretezza che gli è stata imposta dall'azienda e che rende molto difficile per loro non solo sindacalizzarsi, riunirsi, parlare del proprio lavoro ma anche riconoscersi l'uno con l'altro. Un moderatore non può nella maggior parte dei casi per ragioni di accordi di riservatezza che ha dovuto firmare nel momento dell'inizio dell'incarico non può dichiararsi tale sui social media su LinkedIn, sul proprio profilo Facebook, non può condividere la sua esperienza con l'esterno non lo può fare con i giornalisti e quindi diventa veramente molto difficile stabilire dei contatti continuativi tra persone che lavorano nell'ambito della moderazione di contenuti che è un lavoro, ricordiamolo, che riguarda tutto il mondo non è più solo un lavoro esternalizzato nelle aree e nei paesi più poveri del mondo ma è anche un lavoro che in questo momento riguarda anche persone che vivono nel ricco occidente in Europa, negli Stati Uniti e che però devono collaborare l'uno con l'altro attraverso sempre l'intermediazione e il filtro di uno schermo e dell'anonimato a cui sono soggetti. Ci hai parlato del problema dell'anonimato di questi lavori che se vogliamo arriva fino alla rimozione del lavoro che sta dietro questo tipo di servizio utilizzando i social media siamo spesso stati oggetto attraverso un'assalinazione di altro utente di revisione, eventualmente anche di blocco, insomma sono successo a molti di noi senza però apparentemente violare alcuna norma inoltre è molto difficile fare ricorso come funziona questo sistema e qual è la responsabilità effettiva delle piattaforme rispetto in qualche modo a un diritto anche di parola che sembra sempre più labile e non del tutto garantito. Quello che tengo sempre a sottolineare e ripeto diverse volte nel corso del libro è che il sistema di moderazione di contenuti attuale funziona attraverso una modalità che può essere così ma poteva anche essere costruita e progettata in maniera diversa. Come dicevamo prima i moderatori di contenuti professionisti lavorano grazie a segnalazioni che possono provenire da software automatici e intelligenza artificiale ma tutte le evidenze lasciano supporre che comunque una buona parte delle segnalazioni che vengono inviate ai moderatori che questi devono revisionare provengono ancora oggi dagli utenti. queste segnalazioni avvengono in maniera totalmente anonima, illimitata e soprattutto completamente deresponsabilizzata. Se un utente decide di segnalare un contenuto o un'altra persona anche se questa non ha violato nessuna regola di pubblicazione totalmente in mala fede perché magari non conosce l'esistenza dei pulsanti silenzio e blocchi allora utilizza il pulsante di segnalazione per non vedere più un determinato contenuto e una determinata persona nel suo flusso di notizie non succede niente semplicemente si aggiunge un ulteriore pezzo di contenuto da far revisionare al moderatore nella sua coda di revisione e questo secondo me genera degli squilibri piuttosto forti nel modo in cui oggi l'attività di moderazione di contenuti viene portata avanti. I moderatori spesso per loro stessa missione si trovano a fare i conti con contenuti che non violano nessuna regola di pubblicazione delle piattaforme ma che sono stati segnalati in maniera appunto in mala fede oppure con il esplicito proposito di cancellare un contenuto della piattaforma di far eliminare una pagina piuttosto che un gruppo che in realtà è di opinioni opposte alle proprie o di opinioni opposte alle proprie del gruppo delle persone che hanno deciso di segnalarlo in massa. Ora questo non accade più come un tempo fino a qualche anno fa segnalando in massa un contenuto per una persona effettivamente questo portava a un'immediata cancellazione temporanea definitiva di quel contenuto di quella persona dalla piattaforma. Oggi fortunatamente le piattaforme digitali hanno avanzato, hanno costruito e progettato dei filtri leggermente più sofisticati di qualche anno fa ma in generale l'impianto di moderazione di contenuti che parte da una segnalazione anonima degli utenti arriva a un moderatore e in seguito alla decisione di quest'ultimo gli utenti hanno la possibilità di fare uno e un solo appello contro la decisione del moderatore senza alcuna garanzia del fatto che il loro appello effettivamente riceverà una risposta o meno e senza alcuna garanzia neppure sui tempi con cui l'appello verrà trattato ecco che questo espone secondo me delle profonde distorsioni, delle profonde ineguaglianze e ingiustizie nel modo in cui oggi la libertà di espressione viene oggi teoricamente tutelata da parte delle piattaforme digitali non sono rari i casi e penso che lo saranno sempre di più di persone che si sono viste bloccare o limitare il proprio account, la propria pagina, il proprio gruppo su cui magari hanno investito anni e anni di lavoro senza un perché, senza una ragione effettiva e senza neppure avere gli strumenti per far valere o far sentire la propria voce presso i moderatori perché volutamente le piattaforme hanno creato una sorta di distacco fittizio tra moderatori e persone tale per cui le persone che è stato segnalato e chi segnala non può comunicare direttamente con i moderatori e i moderatori non possono comunicare direttamente con gli utenti come se tutto avvenisse attraverso leggi dal controllo di un algoritmo, di un sistema automatico quando dall'altra parte dello schermo, lo sappiamo, ci sono delle persone incaricate di moderare e di rivedere le segnalazioni anonime degli utenti Ecco, mi collego a quanto hai appena detto spesso ci si immagina che la moderazione sia qualcosa che interviene principalmente sui post pubblici è propriamente così? Non esistono limiti alla capacità e possibilità di intervento di un moderatore quello che è importante capire è che oggi questo territorio è un ambito di attività che non è praticamente normato esistono alcune leggi, c'è la NesDigi tedesca che comunque obbliga le piattaforme a rispondere alternativamente entro 24 ore o una settimana sulla segnalazione di contenuti di odio e razzismo ma a livello generale le regole di ingaggio dei moderatori di contenuti e di chi fa moderazione vengono decise e continuamente cambiate dalle piattaforme stesse su alcune piattaforme magari i moderatori hanno libertà di azione solo su determinati contenuti o solo su determinati luoghi virtuali su altri ambiti i moderatori hanno praticamente possibilità di intervento illimitato nel momento in cui un'intelligenza artificiale o un utente ha deciso di segnalare un contenuto, una persona, una pagina o un gruppo come sospetto come potenziale violazione delle regole di policy che a loro volta cambiano continuamente se noi andiamo a ripercorrere tutta la storia di evoluzione delle regole di pubblicazione dei contenuti sui social media e le piattaforme digitali ci accorgiamo come questi documenti sono cominciati con l'essere una pagina, un foglio, poche righe, pochi paragrafi a essere diventati ormai dei documenti che raccorgono qualche migliaia, quando non decine di migliaia di parole praticamente impossibili da leggere e da memorizzare tutte senza avere effettivamente la consapevolezza di quali regole vengono modificate e perché nemmeno questo aspetto che dovrebbe essere anche quello normato cioè nel momento in cui cambio una regola io devo comunicare, devo far sapere, devo sincerarmi che l'utente che è soggetto a quella regola viene informato ed è consapevole che quella regola è cambiata ecco anche questo è lasciato completamente a caso oppure se vogliamo all'opportunismo delle singole piattaforme che possono decidere di comunicare o meno quando le loro regole di policy vengono cambiate collegandomi a questo, queste cose sono evidenti per chi per esempio usa facebook vi sono però anche delle forme private di inviare messaggi istantanei appunto messenger per chi usa la piattaforma facebook classica in altri casi whatsapp piuttosto che che tenevano altri sistemi di messaggistica ecco in questo caso siamo al riparo dai moderatori e la nostra privacy è effettivamente tutelata? guarda l'unica sicurezza è che non esistono sicurezze per anni facebook che proprietaria di whatsapp ha negato fermamente la possibilità che esistessero moderatori di contenuti che agissero direttamente sulle chat di whatsapp in realtà era già da diversi anni che alcune testimonianze erano uscite di potenziali moderatori che dicevano ovviamente in forma anonima che erano stati incaricati oltre che a lavorare per facebook oltre che a lavorare per twitter erano stati incaricati anche di operare sulle chat sulle divisioni di messaggistica istantanea di queste aziende in un certo senso ci si poteva anche arrivare da soli nel momento in cui su whatsapp è presente un tasto per la segnalazione dei contenuti che possono violare le policy e le regole di pubblicazione dell'app di messaggistica ecco che inevitabilmente sorge la domanda ma questa segnalazione da chi verrà trattata? da un essere umano o da una macchina e sapendo che ad oggi la moderazione dei contenuti automatiche è qualcosa che avviene ma non è così sistematica, non è così pervasiva e tantomeno non è così perfetta come è stata descritta dalle piattaforme digitali ecco che i dubbi iniziano a farsi sempre più numerosi è proprio notizia di questi giorni che un'inchiesta di ProPublica ha raccolto le testimonianze di 29 appena 29 moderatori contenuti dei circa 1000 che sono stati assunti da Accenture per lavorare per conto di whatsapp in un ufficio di Austin in Texas e fare effettivamente attività di moderazione di contenuti sulle chat di whatsapp quello che è venuto fuori è che nel momento in cui una persona decide di segnalare una chat di whatsapp sia essa privata con un'altra persona o di gruppo con più persone quello che è venuto fuori è che nel momento in cui avviene la segnalazione il messaggio segnalato e i quattro messaggi precedenti vengono condivisi con un moderatore di contenuti che quindi ha teoricamente, anzi concretamente, accesso a delle chat, degli scambi a dei contenuti privati in buona parte probabilmente saranno casi di violazioni magari anche gravi questo assolutamente non è da escludere però anche in questo caso siamo comunque di fronte a una violazione della privacy degli utenti che non viene comunicata le persone che vengono segnalate non lo sanno fino a quando il moderatore di contenuti non ha deciso di intervenire drasticamente ed è sostanzialmente una violazione della privacy che è in contraddizione con tutto quello che è la comunicazione di facebook e di whatsapp negli ultimi 4 o 5 anni la differenza, se vogliamo, tra un moderatore di contenuti di messaggistica istantanea come whatsapp e un moderatore di contenuti di un social media che è una differenza che è stata portata avanti anche dalla comunicazione di facebook e whatsapp per giustificare il fatto che non parlano di moderazione di contenuti sulle loro chat è il fatto che il moderatore di contenuti di whatsapp non può rimuovere il singolo messaggio ma può al massimo decidere se bloccare l'utente, rimuovere l'intera chat e quindi avere in un certo senso un impatto molto più drastico che non le infinite possibilità concesse a un moderatore di contenuti di un social che può decidere se lasciare online il contenuto, se limitarlo, se bloccare temporaneamente l'operatività di un utente oppure cancellarlo del tutto Allora grazie Jacopo innanzitutto per le tue risposte e abbiamo parlato anche del rapporto un po' ambiguo che i social media hanno con i loro utenti le regole cambiano in continuazione e sono anche molto vaga allo stesso tempo danno grande flessibilità ai moderatori con dei contorni che sono sempre molto sfumati e un'altra volta amigui per noi utenti immagino però che non dipenda tutto dalla sorte dal moderatore che ci capita in sorte diciamo così le piattaforme sono cresciute molto in questi anni anche grazie alle bolle, ai continui scontri, insulti tutti frutto della polarizzazione tipica appunto dei social media abbiamo anche parlato in qualche altra intervista e non parliamo però qui di informazioni di qualità in quanto tale ma per esempio dello scambio di battute e insulti che appunto sui social funzionano particolarmente bene questo negli ultimi anni però soprattutto negli ultimi mesi si è modificato in particolare sul piano politico pensiamo ad esempio al caso Trump ma ci sono altri casi che erano tollerati assolutamente in passato che però appunto nell'ultimo anno in particolare dopo l'ultima elezione americana diciamo anche appunto in Europa non sono più stati tollerati vi è stata infatti nella sostanza una restrizione degli spazi e ciò non so cosa è dovuto al caso al fatto che ormai si è raggiunto un livello eccessivo oppure c'è stata qualche decisione diciamo in qualche modo coordinata che effettivamente ha smosso le cose ma allora secondo me ci sono due punti da sottolineare il primo è il fatto che secondo me buona parte del successo dei social media fino ad oggi si è fondato prevalentemente su una illusione l'illusione dell'automazione editoriale per anni in qualche modo i social media stessi ma anche tanti di coloro che ne hanno parlato ne hanno scritto hanno sostenuto che i social media potessero funzionare unicamente attraverso i loro algoritmi macchine automatiche in grado di selezionare per ciascuno di noi che cosa era meglio i contenuti migliori e in qualche modo di sostituirsi al lavoro di selezione editoriale umana svolto da giornalisti, esperti, professionisti, studiosi in qualche modo persone che in qualche modo fino a qualche anno fa erano i principali responsabili del modo in cui la maggior parte di noi fruiva l'informazione i social media hanno sostituito a queste persone, al lavoro di queste persone la promessa di poterli sostituire tutti attraverso degli algoritmi che da soli erano in gradi, maturando e apprendendo nel corso del tempo di trovare il contenuto migliore e più adatto a ciascuno di noi secondo me i moderatori e tanto più le loro testimonianze vengono fuori e tanto più questa cosa viene in qualche modo suffragata dai fatti sono la prova empirica che questo probabilmente è destinato ed è destinato a rimanere solamente un'illusione oggi credo che nel momento in cui ci si deve affrontare allo studio, alla discussione, alla descrizione delle piattaforme digitali non si possa più parlare degli algoritmi ignorando l'esistenza dei moderatori facendo come se i moderatori non esistessero e al tempo stesso, lato mio, lato delle persone che scrivono e parlano di moderatori non è possibile parlare di moderatori staccandoli dal loro contesto facendo come se loro non dovessero intervenire per stare dietro un algoritmo che ha il potere e la possibilità di rendere virali di dare molta visibilità dei contenuti potenzialmente problematici per la piattaforma se vogliamo, io penso che le persone che magari ci stanno ascoltando che ascolteranno questa intervista sono attive su almeno una piattaforma digitale su almeno un social, quello che noi vediamo nel nostro flusso di notizie di Facebook, di Twitter e LinkedIn o anche TikTok per i più giovani non è lì e non è in quell'ordine semplicemente perché lo ha deciso un algoritmo ma si trova lì e si trova in quell'ordine perché lo ha deciso un algoritmo e uno o più moderatori che hanno deciso di eliminare contenuti che altrimenti avremmo potuto vedere nel nostro flusso di notizie oppure di mantenere online dei contenuti che magari violavano una regola di pubblicazione dei social magari contenuti di violenza ma costituivano a tutti gli effetti una notizia di interesse pubblico e che quindi non gli conveniva troppo eliminare si pensi ai casi piuttosto comuni negli Stati Uniti nel periodo recente di persone che sono state assassinate magari dalle forze dell'ordine oppure brutalmente picchiate e i cui video, le cui prove, le cui testimonianze pur violando teoricamente le regole di pubblicazione dei social media sono invece state mantenute online perché queste costituivano una notizia ecco di fronte a questi casi io mi chiedo sempre questi sono stati mantenuti online dai moderatori ma chissà quanti altri video che potevano costituire una notizia di un fatto violento di cronaca nera invece sono stati rimossi per non turbare troppo gli utenti dei social media quindi penso che la cosa più importante da sottolineare è il fatto che moderatori e algoritmi lavorano entrambi e lavorano entrambi per la stessa piattaforma e la stessa azienda prima ancora che lavorare per difendere gli utenti i moderatori sono al servizio delle piattaforme e servono per tutelare la reputazione delle piattaforme nei confronti dei governi, delle forze dell'ordine delle istituzioni, dei mass media, degli investitori servono per pulire le piattaforme in un certo senso per dargli un aspetto più accettabile agli occhi di investitori inserzionisti e istituzioni che in definitiva possono decidere della loro sopravvivenza o meno all'interno di un determinato contesto politico dall'altro punto di vista comunque anche lì è importante sottolineare il fatto che questo mix di algoritmi e moderatori un mix se vogliamo in un certo senso letale o comunque una concentrazione di potere che probabilmente non si era mai vista prima nella storia semplificando al massimo possiamo dire che gli algoritmi sono quell'entità della piattaforma che ha il potere, a cui è stato assegnato il potere di dare visibilità a una persona, a un contenuto mentre i moderatori sono l'entità, il soggetto umano della piattaforma a cui è stato assegnato il potere di togliere questa visibilità senza alcun preavviso, dall'oggi al domani che questo rispetti le regole di pubblicazione della piattaforma o meno che questo sia stato ammesso sulla piattaforma fino all'altro giorno o meno e il caso che hai citato prima, quello di Trump credo che sia un caso paradigmatico da questo punto di vista Trump è quello che è rimasto su Twitter per quattro anni è stato quello reso praticamente invulnerabile dalla piattaforma Twitter perché chissà quanti milioni di persone in forma anonima hanno segnalato Trump i suoi contenuti nel corso degli ultimi quattro anni senza che questo producesse alcun tipo di effetto e poi, negli ultimi giorni del suo mandato di fronte agli eventi particolarmente gravi come l'assalto a Capitol Hill ecco che da un momento all'altro Trump è stato completamente eliminato e assieme a lui tutto l'archivio dei contenuti che hanno stati pubblicati sulla stessa piattaforma che fino a pochi giorni prima gli aveva dato assoluta immunità questo a me fa un po' paura questa concentrazione di potere in termini proprio di potere di dare visibilità e di toglierla rispondendo solo alle proprie leggi o prevalentemente alle proprie leggi e le proprie regole di ingaggio ecco che a me sembra una concentrazione di potere che probabilmente ha raggiunto e superato un punto critico, un punto di non ritorno su cui credo che sia importante fermarci tutti un attimo a riflettere quello che io ho visto e parlo solamente del mio ambito parlo solamente del mio ambito per quello della moderazione di contenuti è che i limiti di questo potere di cancellare e togliere di togliere visibilità a persone siano esse ricoprenti qualsiasi carica pubblica o privata è un limite che si esposta e si sposta continuamente e si è spostato continuamente nel corso del tempo a poco a poco le piattaforme hanno assunto sempre più potere nell'atto di censurare i propri utenti proprio perché si sono rese conto che attraverso questo potere comunque potevano controllare la narrazione che della piattaforma veniva fatta all'esterno come un luogo di divertimento di spensieratezza un luogo di informazione piuttosto che tutt'altro piuttosto che come la piattaforma sarebbe potuta apparire se non ci fosse stato l'intervento dei moderatori e non è un caso penso che le piattaforme oggi di maggior successo al mondo quelle che fanno non le centinaia di milioni ma i miliardi di utenti sono anche quelle che impiegano il maggior numero di moderatori e quelle che hanno destinato all'attività di moderazione di contenuti automatiche manuali le maggiori risorse rispetto ad altre che o non hanno le medesime risorse o non hanno colto per tempo tutta l'importanza dell'aspetto di moderazione unito all'aspetto di automazione dei contenuti ecco allora avviandoci alla conclusione avrei due domande ancora da farti nel tuo libro in particolare citi Scott Galloway che è un professore di marketing alla New York University e questo professore in uno dei suoi ultimi libri tra l'altro molto tradotto anche in italiano descrive da un punto di vista liberale i problemi causati dalle grandi imprese tecnologiche e come le aziende del passato lui dice sostanzialmente che come le aziende del passato producevano centinaia di migliaia di posti di lavoro ben retribuiti invece le attuali principali aziende Google, Facebook eccetera hanno ancora alcuni lavori centrali molto ben retribuiti ma anche una serie di lavori in qualche modo secondari che sono o gratuiti pensiamo a quello che noi pubblichiamo su Facebook o a quello che attraverso i diciamo i quesiti di captcha eccetera in qualche modo svolgiamo un lavoro gratuito per via in forma volontaria ne abbiamo parlato anche diffusamente con il professor Antonio Casilli qualche mese fa oppure lavori che sono mal retribuiti come quello appunto di cui abbiamo parlato oggi e volevi farci qualche ulteri considerazione in merito a questa situazione? io ho citato Scott Galloway perché l'ho visto in qualche modo precursore un po' comunque capace di cogliere una tendenza di fondo che secondo me è ancora molto ben lontana da spiegarsi compiutamente io ho una spiegazione che mi sono dato un po' da questa differenza di trattamento ma anche proprio anche di come il lavoro delle piattaforme viene creato e cioè una minima parte di lavori ben retribuiti assunti verso le piattaforme digitali e se vogliamo un'altra comunque minima parte di persone che magari lavorano per le piattaforme digitali ma all'esterno senza esserne dipendenti come possono essere i social media manager piuttosto che chi lavora nel campo della comunicazione della pubblicità digitale ecco a fronte comunque di questa creazione di lavoro di qualità e di valore ben retribuito ma comunque in minime proporzioni c'è un'enorme area grigia di persone che invece lavorano volontariamente gratuitamente o pagate al minimo io credo che questa situazione continuerà a prodursi e si dispiegherà nei suoi effetti ancora in maniera ancora più grave forse di come avviene oggi nel corso dei prossimi anni finché in qualche modo continueremo ad accettare a credere per comodo per mancanza di informazioni proprio a questa illusione dell'automazione completa se vogliamo il corrispondente dei moderatori di contenuti di un social media è un quality writer di un motore di ricerca anche in questo caso parliamo di migliaia di persone pagate il minimo sindacale spesso studenti, neolaureate o comunque lavoratori che stanno cercando un lavoro di fortuna di ripiego per cercare un po' di compensare le loro finanze in un momento magari particolarmente difficile della loro vita che non lavorano direttamente per Google non sono assunte da Google non sono probabilmente conteggiate nel numero di dipendenti di Google o di altri motori di ricerca ma a tutti gli effetti svolgono un lavoro fondamentale che è quello di valutare la qualità dei siti web che poi devono apparire nelle pagine di ricerca del motore anche in questo caso la sensazione anche in questo caso la sensazione che ha l'utente se vogliamo è quella di un lavoro completamente automatizzato di una piattaforma digitale che non ha bisogno del lavoro umano e per la quale effettivamente servono solo poche migliaia di ingegneri disposti a manutenere a sviluppare un algoritmo la realtà è invece che a fianco al lavoro dell'algoritmo lavorano un esercito di persone invisibili che non lasciano traccia ma il cui lavoro è altrettanto importante quanto quello dell'algoritmo nell'organizzare le informazioni in base alla loro qualità e in base alle regole gerarchiche ecco io credo che fino a che non aumenterà un po' la consapevolezza sul fatto che macchine automatiche probabilmente o completamente automatiche che non hanno bisogno del supporto umano probabilmente in questo momento non esistono e non esisteranno mai a seconda degli obiettivi che queste macchine vogliono raggiungere io credo che fino a quando si manterrà questa illusione probabilmente la difficoltà di far emergere questi lavoratori di sindacalizzarli di chiedere diritti per loro di chiedere maggiori tutele e riconoscimenti quindi resterà ancora a lungo purtroppo un'utopia ecco giusto un'ultima domanda per concludere il tuo è il primo libro italiano che parla di questi temi in maniera così approfondita e focalizzata ecco mi chiedevo se per caso avessi qualche testo da consigliare eventualmente anche in lingua inglese se appunto non tradotto per chi volesse approfondire questi temi questi problemi insomma si purtroppo se parliamo di libri ce ne sono veramente pochi al mondo dedicati unicamente al lavoro dei moderatori di contenuti quello che posso citare e consigliare che è citato in diversi punti del mio libro è Behind the Screen di Sarah Roberts e un altro che ha credo un anno in più ma comunque parliamo del 2018 che è Custodians of the Internet di Tarleton Gillespi questi sono i due testi che se vogliamo si sono occupati per primi in maniera approfondita e specificamente del lavoro dei moderatori di contenuti io quello che ho fatto nel mio libro è stato non limitarmi ecco a riprendere le testimonianze ovviamente quello che ho fatto è stato mettere insieme tutte le testimonianze dei moderatori di contenuti raccolti da questi altri autori di metterle a confronto di trovare i punti di comune ma anche le differenze che ci consentono in qualche modo di ricostruire come funziona questo lavoro com'è la vita quotidiana il giorno quotidiano di lavoro di un moderatore di contenuti ma quello che ho fatto è stato cercare di analizzare e descrivere il lavoro dei moderatori di contenuti all'interno del contesto di specifiche piattaforme digitali e quindi i social media cercando di portare alla luce il rapporto che oggi esiste che secondo me deve ancora essere molto ben studiato e molto più approfondito tra moderatori di contenuti e algoritmi tra esseri umani e macchine io credo che questo sarà un tema centrale fondamentale nei prossimi anni e se vogliamo negli ultimi libri che mi è capitato di leggere quest'anno che parlano di tecnologia un piccolo capitolo spesso spesso lasciato alla fine oppure un accenno ma rispetto a qualche anno fa dove ci si concentrava unicamente sull'aspetto disumano della tecnologia sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale ecco che io vedo che sulle pubblicazioni dedicate al tema tecnologia sempre più spesso si fa riferimento agli operai del click a chi lavora dietro a chi consente se vogliamo a questa illusione a cui tutti in qualche modo cerchiamo di facciamo più o meno finta di crederci a chi consenta questa illusione di perpetuarsi e io spero che da questo piccolo capitolo da questa piccola citazione nei prossimi anni magari i riferimenti inizieranno a diventare sempre più estesi e a dare a questi operai del click a queste persone a questi lavoratori invisibili lo spazio e l'importanza che effettivamente meritano nell'ambito dell'economia e della politica digitale inizale a communaut